Salve amici e amiche mie, buona giornata a tutti, benvenuti alle ricette di Zia Franca. Oggi prepariamo insieme un piatto veramente speciale, con chiglioni ripieni di ricotta e zucchine. È un piatto veramente squisito, adatto alle domeniche d'estate. E allora, non ci perdiamo in chiacchiere, iniziamo subito la ricetta e vi ricordo sempre di non saltare i passaggi per avere un ottimo risultato. Ed ora cominciamo. La prima cosa da fare è lavare, spuntare e tagliare a dadini le zucchine. Ed ecco qui, le zucchine sono state tutte tagliate ed ora non ci resta che passare ai fornelli per la cottura. In una padella ho messo dell'olio, lo sto portando a temperatura per poter friggere le zucchine. Però, prima di inserire le zucchine, io metto uno spicchio d'aglio tagliato a metà e questo servirà a profumare l'olio, quindi a dare quel sapore in più alle nostre zucchine. Quindi facciamo imbiondire l'aglio e profumare l'olio. Mi raccomando, non fatelo bruciare. Profumato l'olio, andiamo ad eliminare l'aglio. E versiamo le zucchine, non tutte insieme, mi raccomando, un po' alla volta. E versiamo le zucchine, non tutte insieme, mi raccomando, un po' alla volta. Le zucchine sono state fritte e adesso andiamo a preparare la farcitura. Quindi in una ciotola mettiamo della ricotta freschissima. Alla ricotta aggiungiamo un po' di sale. Una spruzzatina di pepe e una manciata abbondante di parmigiano. E iniziamo a mescolare, stemperando e formando una cremina. Alla ricotta aggiungiamo anche le zucchine che sono state fatte intiepidire. Io ho scelto di friggere le zucchine per dare un sapore un po' più deciso, quindi più buono. Se però non volete friggerle, potete stufarle tranquillamente. Però, sinceramente, così sono più buone. E andiamo a mescolare il tutto. All'impasto unisco dell'origano fresco. Se voi non l'avete fresco, lo potete utilizzare secco. Se poi non vi piace, non lo mettete. Io lo metto perché è profumatissimo e buono. Foglioline di origano. E naturalmente, oltre all'origano, aggiungo anche delle foglie di basilico fresco. E mescoliamo ancora. Che profumo! La farcia è pronta. La mettiamo da parte e attendiamo che l'acqua bolle per calare i conchiglioni. Benissimo! I conchiglioni si sono cotti. Come vedete, eccoli qui. Li ho anche scolati. E li ho cotti per circa 10-12 minuti. Praticamente mi sono tenuto indietro un paio di minuti per la cottura finale. E nel frattempo ho preparato una besciamella fluida e morbida. Vedete com'è bella? L'ho preparata con 750 ml di latte, 40 grammi di farina e 60 grammi di burro. Questa è la dose appunto per farla venire un po' più fluida e più liquida. Perché a noi serve in questo modo. Non troppo densa, quindi deve essere fluida per le paste al forno. Va bene, adesso assembliamo i nostri conchiglioni. Metto sul fondo della pirofina un mestolo di besciamella. Nel sac à poche ho introdotto la farcia. Ho fatto così per semplificare l'inserimento della farcia nel conchiglione. Perché magari col cucchiaio ci vuole un po' di tempo in più. Quindi facciamo così, vedete? Molto semplice e carino anche. Ecco qua. Preparato il nostro conchiglione, metto all'interno dei pezzetti di provola. Questa è provola bianca, ma voi se volete potete aggiungere della mozzarella o della provola affumicata o del formaggio a voi più gradito. Quindi cominciamo a sistemarli nella teglia. In questo modo. E continuiamo con tutti gli altri. Con questa dose sono usciti 33 conchiglioni ripieni. Quindi regolatevi di conseguenza. Magari, non lo so, per 4-5 persone sono l'ideale. Ed ora non ci resta che terminare la preparazione con un'altra besciamella che metteremo sopra i nostri conchiglioni. E terminiamo con una spolverizzata di parmigiano abbondante. Benissimo. Il forno chiama, andiamo a infornare. I conchiglioni sono usciti dal forno. Le ho infornate a 180 gradi per 35 minuti. Forno ventilato. Se avete il forno statico, aumentate qualche grado la temperatura e poi, come dico sempre, ognuno conosce il proprio forno. Quindi, quando vedete una bella doratura sulla superficie, il piatto è pronto. Che dire, amici? Sono una vera squisitezza. Vi consiglio di provarli e poi di farmi sapere nei commenti se vi è piaciuto oppure no. E con questo io vi saluto, vi do un abbraccio, un arrivederci e un grazie a tutti da Zia Franca.